oggi abbiamo il piacere di leggervi un dialogo tra eleuterio e sempre tua un libro della tonzelli che mostra i dialoghi che allora furono recitati in radio tra rina morelli e paolo stoppa questo episodio si chiama il fiasco di vino a roma trastevere 28 settembre 1966 caro eleuterio la cosa che mi vide bambina oggi mi vede delusa il nostro bisticcio di ieri mi ha messo addosso la stessa malinconia che mi mette addosso pipo baudo quando recita e anche quando sta zitto guardo il cielo e penso che il cielo non è altro che il campo da football per quell'enorme pallone che si chiama mondo e penso anche che sei uno stupido eleuterio se arrivi al bisticcio per un semplice fiasco di vino sempre tua roma parioli 29 settembre 1966 cara sempre mia la casa che ti vide bambino che ora ti vede delusa ti vedrà anche decrepita se aspetti che venga a riprenderti se tu non fossi tornata da tua madre ti avrei spedito da tuo nonno piace all'anima sua forse sarà anche stupido litigare per un semplice fiasco di vino ma non dimenticare che il suddetto fiasco tu me l'hai rotto in testa alleggiata sempre mia e sei riuscita in una sola volta a ferire il mio orgoglio e il mio cuoio capelluto ciao post scriptum la suocera ecco lei che riesce a fare della propria figlia una donna capace di trasformare il sostantivo moglie in aggettivo dispregiativo eleuterio roma trastevere 30 settembre 1966 caro eleuterio gattone micione è troppo intimo e tu al momento non sei intimo nel cortile sottostante due donne dialogano un dialogo tipico pittoresco e ho il dubbio degli aggettivi che sento che stiano parlando di te ma non può essere sì può essere eleuterio una delle due donne mia madre che è scesa in cortile il cortile non è altro che l'indifferenza di quattro case che si voltano le spalle e tu sei poco cortese mi accusi di averti dato il fiasco in testa non avevo nessuna intenzione ma che dovevo fare il martello era nella credenza sempre tua roma parioli primo ottobre 1966 cara sempre mia la tua assenza incomincia a pesarmi senza i tuoi discorsi i tuoi ragionamenti io mi sento un uomo di media intelligenza mentre quando sei qui e parli non posso fare a meno di guardare con superiorità al ritratto di einstein e sussurrarli un democratico ciao caro torna anche perché da qualche giorno non vedo più la moquette del salotto dove sarà la ferita al mio orgoglio si è quasi rimarginata insieme all'altra non ricordo più neanche perché abbiamo litigato ciao post scriptum la portinaia ritrovato la moquette era sotto le cicche eleuterio roma parioli primo ottobre 1966 caro eleuterio micione sono di nuovo qui nella casa anche tua che sarebbe come dire nostra la faccenda del fiasco non succederà più ho messo a portata di mano il vaso cinese che ci regalò tua zia tanto a te non piace in caso di rottura non sarà una grande perdita ho portato il ritratto di einstein in cantina e penso che la cantina non è che un super attico per speleologi comunque io ricordo perfettamente perché abbiamo litigato stavi rientrando per la cena e ciao sei arrivato eleuterio ma sono ancora fuori cerca di non tardare caro è quasi pronto ma sei qui perché allora mi hai detto che non eri rientrato con te non ci si capisce mai niente con te invece è sempre tutto chiaro amore mio continua a fare domande inequivocabilmente cretine eleuterio ho il dubbio che tu voglia dirmi che in un certo senso sono cretina tesoro sono i tuoi dubbi che amareggiano la mia esistenza non ne avere cara a no no eleuterio com'è che definiscono quel tizio che ha strangolato quelle tre donne in inghilterra un brutto grazie sei un brutto se vuoi mangiare è pronto è pronto ecco a questa frase l'uomo incorreggibile ingenuo immagina sulla tavola imbandita vivande appetitose sogna di immergere la forchetta nella soffice burrosa consistenza delle tagliatelle vede con la fantasia schizzi di ragù levarsi dal piatto fumante come frammenti di fuochi d'artificio pregusta l'attimo non lontano in cui con il coltello tagliente sminuzzerà la grande alta bistecca al sangue tutto questo immagina l'uomo alla fine è pronto e poi oggi si mangia minestrina di dado e carne scatola signor barbablu perché tu personaggio così mano così giusto e incompreso fai ancora parte del mondo delle fiabe alludi no cara rimpiango e togli quel fiasco di vino e cos'è sei diventato astemio non sono astemio ma sono teleutente se non sposti il fianco verso destra o il televisore impallato ma che lingua parli eleuterio evidentemente una lingua incomprensibile soltanto a te dammi del vino per favore grazie allora lo fai apposta ma vorrei sapere quanto ti alleni per acquisire la diabolica precisione che ti consente di mettermi il fiasco del vino esattamente nel centro del campo televisivo ma levalo eleuterio sei un disgraziato e se non ti calmi torno da mia madre ecco perché mi esaspera quel fiasco perché oltre che impedirmi di vedere il teleschermo mi ricorda tua madre in che senso perdon in senso architettonico ma il fiasco è più affascinante sì 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 che il fiasco ti ricorda mia madre già e ti indispone senza il minimo dubbio e scommetto che come mia madre il fiasco ti fa venire il mal di testa no per la verità no il mal di testa no e io dico di sì hai visto ricordo perfettamente perché litighiamo quella sera e quando rientrerai farò finta di niente ciao sei tornato eleuterio no sono ancora fuori allora cerca di non tardare perché il duetto è terminato spero vi sia piaciuto grazie 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 grazie